Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Feri ASMR Quello che state per guardare è un video ASMR rilassante in cui procederò all'unboxing del mio nuovo smartphone Vi avevo chiesto qui su Youtube e su Instagram diverse volte di consigliarmi uno smartphone top di gamma che potesse fare al caso mio indicandovi alcuni utilizzi che avrei dovuto farne e voglio ringraziarvi tantissimo perché mi sono arrivati veramente tanti suggerimenti Alla fine ero indecisa tra due modelli, un iPhone 11 e un Samsung Note 10 e ho optato per il Samsung ma semplicemente per restare in ambiente Android e devo dirvi la verità, mi è rimasta la curiosità di provare invece l'iPhone anche perché, vabbè, ve lo spiegherò più avanti nel video non sono nuovissima all'ambiente iOS e mi piace anche quello Comunque oggi ci sarà questo unboxing del Samsung Note 10 che spero vi rilassi Questa è la scatolina E questo è lui Ovviamente è già unboxato perché questa intro la sto registrando dopo aver registrato il video Ma vi mostrerò tutto nel dettaglio Poi mi raccomando, indossate le cuffie Come al solito, scegliete un posto comodo dove distendervi per ascoltare questo video E se non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo attivando la campanellina Così non perderete i prossimi video ASMR rilassanti E me ne direi quindi di iniziare Ok, eccoci con la scatolina del Samsung Galaxy Note 10 Pronti per l'unboxing Come vedete La scatolina ha le dimensioni di una mano, forse è poco più grande È nera E presenta qui sopra il disegno di un pennino Che è poi la caratteristica principale di questo telefono E anche il motivo per cui l'ho scelto Allora Facciamo prima un po' di Tapping Leggero Come avrete notato produce un suono diverso Il tocco sui vari lati della scatola Qui c'è scritto Samsung Galaxy Note 10 E qui dietro Ci sono delle specifiche tecniche European SIM card only Vediamo un po' questa linguetta Con scritto Read me Modello europeo Modello europeo Questo prodotto deve essere attivato con una scheda SIM fornita da un operatore mobile all'interno dell'Europa Per utilizzare scheda SIM di altre regioni bisogna prima effettuare chiamate per un totale minimo complessivo di 5 minuti con una scheda SIM di operatori europei E adesso procediamo all'apertura Qui c'è scritto Do not accept if seal is broken Quindi questo è un sigillo di garanzia Adesso vado ad aprirlo Con l'aiuto Con l'aiuto Con l'aiuto Delle forbidi Opla Queste possiamo tollerle Nella scatola C'è il telefono Ovviamente Poi questo cartoncino di protezione Un caricatore Super fast charging Questo è il filo Del caricatore E Queste sono delle cuffie Vediamo un po' come sono fatte Sono delle in-ear Vedete con i gommini qui E ci sono anche altri gommini Forse di diverse misure Comunque di ricambio Qui sotto L'attacco Non è a jack Vedete C'è questo qui Che non è neanche Un micro USB O un mini USB Sono i nuovi Della Samsung Non so come si chiamano Scrivetemelo nei commenti Se per caso Voi lo sapete Ok Ok Anzi Torniamo proprio Della scatola Qui Ciao Ah Questi sono Degli Adottatori Adottatori Forse Per fare i reset O per Rimuovere la sim Boh Comunque trovate Quei piangicini All'interno della confezione Ok Possiamo Rimettere dentro Quello che non ci serve E ora Andiamo a guardare Il telefono Vero e proprio Come vedete Io l'ho scelto In questo colore Argento Con effetto Olografico Si chiama Aura Glow E andrò Ad inserire Una cover Trasparente Con dei glitter E lo farò insieme a voi Vedete com'è ipnotico Il colore Mi piace moltissimo Prima però Togliamo questa Pellicola adesiva Togliamo anche Il codice e-mail Che andremo a conservare Ed ecco fatto Allora Adesso È il momento Della cover Ho preso questa Che andremo a posizionare Sopra Diciamo 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 wow è davvero bellissimissimissimo sicuramente mi servirà una protezione per lo schermo ma ancora non l'ho comprato allora vediamo un po' l'accensione ok eccolo qui naturalmente ditemi se vi interessa perché nel caso vorrei farvi vedere più avanti una cosa c'è nel mio telefono e devo dirvi la verità mi è rimasta la curiosità di provare un iPhone e stavo pensando all'iPhone 11 ma alla fine ho deciso di rimanere sul sistema Android io ho possiato dei dispositivi Apple in particolare un iPod Touch però per qualche motivo mi trovo un po' meglio con Android ma non escludo in futuro di provare l'altro telefono che insomma vorrei acquistare anzi fatemi sapere se conoscete in caso dei rivenditori di iPhone ricondizionati bene adesso procedo alla configurazione del telefono e intanto vi mando un bacino fatoso un saluto fatemi sapere se questo unboxing è riuscito a rilassarvi lasciate un mi piace se è così e noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video ciao